Il programma televisivo Reazione a Catena, condotto da Marco Liorni su Rai 1, continua a godere di notevole successo e resterà in onda fino a dicembre, lasciando spazio all'eredità solo nel gennaio dell'anno prossimo. Il direttore del Daytime della Rai, Angelo Mellone, ha recentemente condiviso alcuni dei suoi progetti futuri in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Tra questi, c'è l'idea di introdurre Reazione a Catena nelle scuole superiori, dove gli studenti potranno divertirsi e imparare italiano grazie al gioco. Mellone ha anche discusso dei conduttori che vorrebbe vedere alla Rai, tra cui Davide Rondoni per un programma sulla lingua italiana, Giovanotti e Pierfrancesco Favino. Inoltre, ha menzionato l'idea di affidare a Rossella Brescia un programma comico e sperimentare una versione corretta di Radio 2 Social Club con Luca Barbarossa e Andrea Perrone nel pomeriggio. Mellone ha sottolineato l'importanza di gestire una varietà di conduttori, ciascuno con le proprie peculiarità e competenze, e ha enfatizzato la necessità di lavorare insieme per ottenere risultati positivi. Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video, per noi è importante, grazie, ci vediamo nel prossimo video.